che cosa avrei dovuto fare che cosa volevi che facessi lei mi ha dato un ordine ha detto comunque vada a non uscire da questo posto secondo te dovevo uscire e morire tu che dici cadetto cosa credi che avresti dovuto fare perché questa è l'unica cosa importante cosa credi che avresti dovuto fare e tu dove eri lei ti ha chiamato ha gridato il tuo nome e tu non c'eri perché non c'eri mai e dici che io sono un vigliacco ti sbagli io non sono un vigliacco sei tu il vigliacco io non sono un vigliacco kitai kitai c'è un pericolo in arrivo mi ricevi c'è un pericolo in arrivo kitai impicchiata kitai Sì! Sì! No! Lascia stare! Sì! Vacera mia! Sì! 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 U當us! Sì! che dai